bene eccoci tornati amici con un altro video su vape in tech channel andiamo a parlare ancora di oggi e torniamo dai nostri amici di tnt vape con un liquido diciamo molto molto strano strano per me come mix diciamo perché lo vediamo è particolare particolare è molto rischioso attenzione molto rischioso perché stiamo parlando del rising pitch allora rising pitch è molto rischioso perché c'è la pesca e io la pesca personalmente la vedo una roma molto difficile tra virgolette da replicare da mixare tutto quanto in questo caso loro hanno mixato con il line pesca e line arriva in questa bella scatolina che ricorda i fiori dei alberi di pesco giapponesi molto carina molto ben fatta quindi shot da 20 ml a cui va aggiunto sempre un acciato da 60 30 ml di icilina vegetale e 10 ml di booster con senza nicotina sempre come vi pare a voi io l'ho già preparato l'ho fatto maturare il giusto che soliti 3 4 giorni anche comunque non sono tanti aromi quindi si dovrebbero mixare con facilità tra virgolette una citatina ogni tanto quindi adesso ce lo proviamo ma prima come sempre e partiamo subito in flavor con il nostro mongrillo ovviamente coil da 0,36 ohm 0,35 50 watt sotto la sine e in cloud andiamo su di livello con il nostro complife exo 21,7 sopra gom 24 cap di michael ice e coil ovviamente da tubo allora che dire bravi bravi tnt vape bravi complimenti perché è veramente un buon liquido questo è un liquido molto buono molto buono la pesca è buonissima ragazzi è veramente buona a me piace veramente tanto fatta così perché è fresca sarà perché c'è anche il live dentro non è ice non c'è fresco menta roba del genere non ci sono all'apparenza a me non mi risulta devo dire la verità forse una puntina anche c'è ma non credo però il mix ci sta tutto ci sta tutto è bello corposo cremoso sul finale che riporta indietro la pesca perché all'inizio avete pesca lime che più o meno sono lì poi viene fuori il lime con la nota del lime ma poi riprende la cremosità della pesca al verso il finale ed è buonissimo veramente buono io posso fare altro che complimenti sia in flavor che in cloud in cloud ovviamente si accentua tutto un po' di più perché verso di temperatura verso di vattaggi però ci sta alla grandissima un flavor all day tutta la vita in cloud per alcuni può essere anche un all day per altri magari no però queste sono scelte ovviamente personali a me è piaciuto veramente tanto devo essere sincero è uno dei pochi tra virgolette comunque dei liquidi della pesca che mi hanno convinto di più ecco di come è stata utilizzata la pesca in questo mix ci sta alla grandissima veramente complimenti a teniti vape è molto molto buono io vi consiglio di assaggiarlo perché ci sta soprattutto anche adesso nella stagione estiva è abbastanza è abbastanza non tanto perché non percepisci quella nota fredda o fresca dell'ice piuttosto che della minta no? che non c'è di fatto dentro a me così chiarato non c'è però è rinfrescante lo stesso perché questo mix è fatto proprio è fatto bene è fatto bene è fatto bene per me fatemi sapere voi cosa ne pensate e scrivetelo nei commenti e noi con la supervega svapatona ci vediamo al prossimo video ciao ciao